Che fantastico giorno! E dopo le forti raffiche di vento che hanno investito la penisola nei giorni scorsi Da oggi in arrivo piogge e temporali Quando fuori non c'è il sole c'è un solo modo per farsi tornare il buon umore Fischiettare felice come un capitano coraggioso Ora sì che niente potrà rovinarmi la giornata Vieni stasera ma che notizia meravigliosa Non sento! Niente! E adesso come faccio?